Oggi è sabato e proveremo il nostro impasto della linea Easy di Molini Pizzuti è facilissimo da poter preparare, con questo mezzo chilo di pizza si possono fare quattro pizze quindi noi useremo la metà giusto per due pizze bisogna aggiungere solamente 300 grammi d'acqua poi comunque bisognerà far lievitare Hei, ti è, signor mani in pasta Lupe pinki ma i genu di ghi e mai basta In bordo, ti è, signor mani in pasta Comun lupet giusinu shtenca o nje e mene sha Palugut, ti è, boi, signor mani in pasta Se c'e muta lupon giusinu primu ka se seta Hei, ti è, signor mani in pasta Signor mani in pasta Parlo de gente senza scupoli Cala di vita non interlimiti Capelù guadagliu face primini Su io alla rovina sunt unii Mânghi se difende nullonore Seminandu scompigui e terrore Guaggi se permette cu li tocca l'intero Mânghi se difende nullonore 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 Grazie a tutti.